devo ancora arrabbiarmi con l'arbitro calcio di rigore calcio di rigore evacuo tutto da solo è andato sul fondo ora viene abbracciato dai tifosi e si è andato a guadagnare il calcio di rigore calcio di rigore per l'Avellino devo dire con un bel gesto evacuo e Biancolino glielo lascia calcio di rigore evacuo potrebbe scrivere la parola fine su questa interminabile stagione e su questa finale playoff eccolo che arriva il fischio parte evacuarete è finita è finita siamo tornati siamo tornati siamo tornati in serie B che non lascerò mai Grazie a tutti